Presentata la dimensione umanistica di Futura Festival, la nuova rassegna culturale organizzata dal comune di Civitanova Marche che si svolgerà dall'11 al 28 luglio, dal giovedì alla domenica. Il festival vuol far riflettere su vari temi. Ma è un laboratorio, Futura Festival, la vetrina ci sarà quest'estate e poi proseguirà per tutto l'anno. È un festival nuovo la cui proprietà è del comune di Civitanova per cui non è occasionale ma rimarrà negli anni in questa città e vuole indagare il futuro. Oggi il vero tema è questo, in tutti i campi. Futura inizierà con un incontro che farà da incipit e da summa di tutta la Kermesse, un dialogo a quattro voci fra due umanisti, Luigi Alici sul futuro dell'anima e Massimo Arcangeli per il futuro della parola e due scienziati. La paura della crisi ci sta un po' paralizzando e allora dobbiamo forse mettere insieme anima del futuro e futuro dell'anima per capire che lo stallo spesso nasce dentro di noi ed è dentro di noi che possiamo e dobbiamo ritrovare le energie critiche e progettuali per ripartire. Sarà invece Filippo Laporta e il Virgilio che condurrà nei meandri del futuro della sezione Humanitas. Oltre 30 gli ospiti e relatori delle due sezioni, fra loro Lidia Ravera e Marco G. Insomma c'è un programma fittissimo, tendiamo a riaffermare un'idea di letteratura conflittuale, la letteratura non come intrattenimento, non soltanto come intrattenimento, ma la letteratura come grande forza critica e utopica e capaci di darci una comprensione della realtà che nessun'altra scienza umana può darci.